Prego Assessore. Ringrazio chiaramente sia i consiglieri di maggioranza che di opposizione che ci consentono sempre di approfondire temi molto importanti. In questo momento siamo stati chiamati a fare un'opera molto importante che è quella di razionalizzare e riorganizzare tutte le aziende partecipate. Come ricordava anche il consigliere De Priamo le farmacie sono sicuramente aziende che dovrebbero andare a reddito tranquillamente anche perché è un'attività di mercato. Nel momento in cui puntiamo però su aziende che sono anche di proprietà del comune dobbiamo guardare oltre non soltanto al mercato ma anche a quelle che sono le esigenze della collettività. Su questo la Giunta si è impegnata e ha destinato una somma molto importante circa 600.000 euro. Come ricordava anche la Presidente di Commissione Agnese Catini l'attività va avanti ma soprattutto va avanti in un senso. Cioè si è cominciato a dare una forma a quella che dovrebbe essere la governance dell'azienda. La nomina di un nuovo commissario punta proprio a questo e in occasione dell'incontro che ci sarà l'impegno principale sia mio personale che immagino anche del commissario che è qui seduto accanto a me è quello di portare un documento di sintesi in cui verrà finalmente fatta luce su tutto quello che è avvenuto in questi anni in questa azienda perché questo poi è quello che tutti i cittadini aspettano per cominciare a rimettere mano al settore sociosanitario anche col supporto di quella che dovrebbe essere un'attività certamente di mercato ma se messa a disposizione dei cittadini può diventare certamente utile. L'ultimo aspetto riguardo alle partecipate ripeto anche lì le azioni sono diverse ma a volte ci dimentichiamo sempre che parliamo sempre di persone. Cioè queste aziende sono state per anni il Bancomat della politica e lo sapete bene perché ci sono indagini anche delle autorità giudiziarie in tal senso e l'occasione di sabato in cui io sono stato ospite all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte d'Appello se ne è parlato tranquillamente delle varie indagini che ci sono state, della famosa indagine Mondo di Mezzo e di come in realtà le aziende del Comune sono entrate all'interno di un meccanismo assolutamente perverso e quindi immaginare di poter risolvere situazioni così complicate con un colpo di spugna credo che non sia facile. Ecco su questo la Giunta si sta assolutamente allineando con quelle che non sono le non normative che sono entrate in vigore da poco bensì anche con tutte le autorità e con tutti i soggetti che stanno in questo momento lavorando per riportare nella legalità queste aziende. Ricordo che alcune di queste alcune delle realtà che sono state oggetto delle indagini vedono amministratori giudiziari parliamo della 29 giugno ad esempio ecco in questo momento l'impegno principale di tutta l'amministrazione ma anche quella statale anche quella giudiziaria è di riportare legalità all'interno di questo comune di questa amministrazione e Ostia sicuramente è un territorio molto importante sul quale noi ci stiamo concentrando l'impegno anche di questa amministrazione di recuperare gli immobili che sono proprietà immense di queste persone che finalmente sono rientrate nella disponibilità dei cittadini e cominciare a immaginare anche che questi immobili possano rappresentare un volano per l'economia e soprattutto per la risoluzione di tante problematiche anche di disagio abitativo è sicuramente un punto di arrivo o comunque un punto di partenza dal quale noi ci sentiamo pronti di cominciare. Ecco quindi finisco semplicemente dicendo che l'attività dell'assessore Colombanna è un'attività molto delicata che richiede come ho già detto molta attenzione e soprattutto richiede anche il coinvolgimento di tutte le forze sociali di tutte le forze imprenditoriali perché ricordo sempre che nel momento in cui bisogna risanare un territorio è necessario che ci sia anche buona economia, buone attività e dall'altra parte è anche una questione di collaborazione con tutte le istituzioni, ad esempio come sappiamo bene uno dei municipi di Roma non è amministrato dalla politica bensì dal governo, c'è un prefetto e questo è il municipio di Ossia e il municipio di Eci sul quale altrettanto è importante dare una risposta, questa giunta lo ha fatto nominando un delegato specifico proprio su quel territorio e su tutti i territori di Roma in modo tale da cominciare a porre le basi per un discorso e per un processo di normalizzazione e di legalità all'interno di questa amministrazione. Grazie.